Sono ancora ricoverati in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza i due anziani coniugi falciati sotto casa da un'auto elettrica ieri pomeriggio. L'incidente era avvenuto poco dopo le 15 in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Un cinquantenne residente in città, la guida di una Renault Zoe ha centrato la coppia che si stava recando a fare il vaccino anti-influenzale dal loro medico nelle vicinanze dell'incrocio di via Brigata Granatieri di Sardegna. Subito dopo l'incidente, ai sanitari del suo M118 immediatamente accorsi, la situazione è apparsa subito grave, soprattutto per l'uomo di 88 anni che assieme alla moglie di 81 erano stati immediatamente trasportati in codice rosso al pronto soccorso. Per il momento la loro prognosi resta riservata.